Secondo lei Renzi ha trovato l'uomo giusto, il Presidente giusto? Non c'è dubbio, credo che Renzi debba essere ringraziato per avere, non ha avuto un candidato scelto pregiudizialmente all'inizio di questo percorso, ha voluto ascoltare tutti, ha voluto fare verifiche e una volta accertate le qualità di richieste dalla maggioranza ha scelto Mattarella, è stato scelto in questo modo. Ha stupito un poco che il rottamatore scegliesse un uomo della prima Repubblica? Sono due mestili diversi, quello del Capo del Governo e quello del Capo dello Stato, Renzi questo lo sa molto bene e sa che andranno d'accordo, anche per questa loro complementarietà di carattere.